A poche ore d'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass per i lavoratori, i cittadini non vaccinati in provincia di Sonio sono oltre 12.600 da venerdì 15, corsa ostacoli per chi non ha il certificato. Confindustria d'Ecco e Sondrio sospende il processo di fusione con Bergamo, lo stop legato a divergenze su questioni organizzative, il Presidente Riva, ma le ragioni alla base del progetto restano valide. Il Consorzio del BIM ripropone per il sesto anno lo Schipass provinciale gratuito per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 16 anni, il Presidente Vaninetti e il nostro contributo alla ripartenza. Con le nostre telecamere oggi siamo entrati nel grande scavo archeologico di Piuro, nell'area di Mod di Castella dove è venuta la luce una necropoli alto medievale, riscritta alla storia locale del paese. Buonasera, buonasera a tutti, il Green Pass resta sotto i riflettori da venerdì 15 ottobre nel settore privato così come nel pubblico, chi è in possesso della certificazione verde può accedere al proprio luogo di lavoro. La mancanza del pass non comporta il licenziamento ma chi non ce l'ha dovrà essere allontanato dal posto di lavoro e ciascun giorno di mancato servizio conterà come un'assenza ingiustificata, non maturano né contributi né ferie. L'obbligo del pass riguarda tutti i dipendenti ma anche gli addetti delle imprese e dei servizi di pulizia, ristorazione, manutenzione e rifornimento dei distributori automatici, i consulenti, i collaboratori, i frequentatori di corsi di formazione, i corrieri, i visitatori, esclusi invece gli utenti. I controlli tramite l'app Verifica C19 devono essere fatti ogni giorno all'accesso in ufficio o anche successivamente a tappeto, a campione in una misura non inferiore al 20% del personale in servizio assicurando una rotazione costante. Ad oggi in provincia di Sondrio il 91,78% della popolazione target ha ricevuto la prima dose, oltre 12.600 i cittadini al momento non vaccinati. L'economia con Findustria Lecco e Sondrio sospende il processo di fusione con la territoriale di Bergamo, uno stop determinato da divergenze sulle questioni organizzative. Ma le ragioni che ci hanno spinto a iniziare questo progetto restano valide, commenta il presidente Lorenzo Riva. Non un addio, non un arrivederci, piuttosto la classica pausa di riflessioni. Confindustria Lecco Sondrio e Confindustria Bergamo fermano il processo di fusione. Una scelta annunciata in conferenza stampa dai due presidenti Lorenzo Riva e Stefano Scaglia, motivata da divergenze sui modelli organizzativi. Si deve ragionare, si deve capire, si deve affrontare alcuni problemi sulla governance e quindi occorre più tempo, occorre più tempo per mettere insieme idee, per essere convinti tutti che la strada che andremo a intraprendere sarà la strada sicuramente a duratura che farà di questa nuova Confindustria una grande Confindustria. Quindi siccome i tempi erano abbastanza stretti era inutile procedere con momenti di correre o di fare qualcosa che magari non avrebbe accontentato la totalità dei nostri 1900 aziende ed era stato quindi scelto il momento di riflessione e di fermarsi un attimo e lasciare il tempo con calma perché le cose possono crescere, maturare e migliorarsi ancora. Le ragioni che hanno portato le due territoriali a studiare il progetto di fusione restano valide. Per farla breve non si celebra il matrimonio ma nemmeno un funerale. Le due realtà continueranno a lavorare insieme, continueranno a incrementare i loro rapporti, metteranno insieme sempre più servizi e troveranno sicuramente un'intesa su quello che saranno i punti di governo strategici per garantire ai tre territori, che ricordiamo sono tre territori, tre camere di commercio, una rappresentanza veramente forza ed esclusiva e sono convinto che i prossimi presidenti riusciranno a portare a termine quanto io e il presidente Scaglia abbiamo seminato in questo periodo. Ripartire dopo la pandemia, dare nuovo slancio, impulso all'economia, migliorare i servizi erogati ai cittadini, sono ambiziosi gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In provincia di Sondrio sta per essere varato un punto di incontro tra imprese e lavoratori sotto la regia della Prefettura. Vediamo. Investire in Valtinia-Valchiavenna nel miglior modo possibile risorse straordinarie e quelle messe a disposizione dei territori dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, varato per far ripartire l'Italia dopo la pandemia. È l'obiettivo che si intende raggiungere con la nascita del tavolo dedicato allo sviluppo della provincia di Sondrio, un punto di incontro e confronto tra mondo delle imprese e organizzazioni dei lavoratori. Fulco dall'iniziativa la Prefettura di Sondrio. Il debutto lunedì 25 ottobre in Camera di Commercio. Notizia ufficializzata dal Prefetto Salvatore Pasquariello durante la visita alle sedi sondriesi di CGL Cesero Will. La proposta di un tavolo per lo sviluppo locale era partita proprio dai sindacati. L'iniziativa che avevamo pensato insieme, cioè quella di immaginare un momento di confronto e di informazione sul PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è un'iniziativa che sta andando avanti grazie anche alla collaborazione della Camera di Commercio con la quale abbiamo fissato questo convegno e sarà a beneficio soprattutto dei componenti della conferenza provinciale permanente che avranno un'occasione di confronto e come dicevo di informazione. Il Piano andrà ad interessare più ambiti per la rete viaria nei comuni ricompresi nelle aree interne della nostra provincia che sono 17 in arrivo a 6 milioni e 200 mila euro. Oltre 3 milioni e 300 mila euro sono stati già messi a disposizione di Palazzo Muzzo per l'edilizia scolastica. Il Prefetto è anche intervenuto sui gravi fatti accaduti a Roma sabato scorso. Per rimarcare la solidarietà del governo alla CGL per l'attacco subito a Roma il 9 di ottobre e per rimarcare altresì le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi secondo le quali i sindacati sono dei presidi di democrazia, di tutela dei lavoratori per cui ogni intimidazione è da respingere con assoluta fermezza. CGL e Cisle Will in pochi minuti hanno deciso dopo i fatti di sabato una grande manifestazione sabato in difesa della democrazia manifestazione che si terrà in Piazza San Giovanni a Roma sabato alle 2. Quindi invitiamo tutti i cittadini che volessero partecipare così almeno avremo una partecipazione forte anche da questo territorio. Ci spostiamo in Val Chiavenna, sono ancora senza esito le ricerche di Fedele Fallini il cacciatore 59enne che risulta disperso da ormai un mese in località sparavera nel comune di Pratacamportaccio. Le autorità hanno diffuso nelle ultime ore l'informazione del ritrovamento di una lunga fune appesa a una parete nella zona della Vallaccia che non apparterrebbe alle persone che abitualmente transitano in quella zona peraltro molto impervia. Chiunque abbia informazioni utili riguardo alla corda viene invitato a rivolgersi ai carabinieri della compagnia di Chiavenna. Qua ci spostiamo a Piuro, paese che grazie agli scavi archeologici coordinati dall'Università di Verona sta riscrivendo la sua storia, il suo passato. Siamo andati a vedere le ultime novità emerse dal sottosuolo. Scoprire che le origini del proprio paese sono più remote di centinaia di anni è l'emozione che stanno vivendo gli abitanti di Piuro. A riscrivere la storia locale, tre sepolture alto medievali venute alla luce a Mod di Castel nell'area interessata dagli scavi archeologici coordinati dall'Università di Verona finanziati dal progetto trasfrontaliero Interreg a Malpi 18. Siamo stati sul posto assieme al sindaco Omaria Comella e a Gianni Lisignoli presidente dell'associazione Italo-Svizzera degli scavi di Piuro. Oltre ad essere uno scavo scientifico che deve dare dei risultati dal punto di vista dei ritrovamenti è anche uno scavo in cui si insegna agli studenti universitari iscritti ai corsi di archeologia appunto come si sta in cantina di scavo e come si scava. Per quello che riguarda lo scavo che va avanti ormai dal 2016 molte sono stati ritrovamenti di rilevanza in particolare alcune delle strutture abitative degli ambienti dove verosimilmente abitavano che hanno una successione cronologica che va dall'VIII fino all'XI-XII secolo quando poi l'aria viene abbandonata nella parte più bassa mentre nella parte alta abbiamo trovato una zona di necropoli una zona di necropoli che è stata intercettata già nello scavo del 2019 poi purtroppo nel 2020 siamo stati fermi a causa del Covid e quest'anno è stato fatto un ampliamento dello scavo per poterne indagare meglio e verificare se appunto queste sepolture erano in connessione a un edificio di culto come accadeva spesso nel Medioevo fino alla riforma di Napoleone nel 1800. Sono state però trovate altre sepolture per il momento in via preliminare le datiamo ad epoca alto medievale per verificare appunto nelle prossime campagne di scavo e tramite alcune analisi al 514 che ci permetteranno di dare un'adattazione appunto a queste sepolture. Direi che questa campagna scavi che si trova all'interno del progetto Interreg Italia-Svizzera Malpi 18 ci sta dando delle grandi sorprese come Comune di Piuro ovviamente siamo contenti dei nostri partner per quanto riguarda ovviamente l'Università di Verona e la soprintendenza archeologica direi che essere riusciti a datare l'origine di Piuro 800 anni prima rispetto ai documenti che fino ad oggi erano conosciuti è un grande pezzo di storia anzitutto perché ci dà la possibilità di poter ricostruire tutti quelli che erano i traffici in epoca alto medievale tardo impero romano e in secondo luogo perché finalmente quando si parla di Piuro non si parlerà solo dalla frana ma si parlerà anche di un insediamento appunto alto medievale. Direi che queste sono delle grandi scoperte e speriamo nei prossimi anni di poter raggiungere nuovi importanti obiettivi. Ora parliamo di turismo per il sesto anno il Consorzio BIM dell'Adda promuove lo ski pass provinciale per i ragazzi detta compresa fra i 3 e i 16 anni l'adesione permette di utilizzare gratuitamente tutti gli impianti delle stazioni sciistiche di Valtellina Valchiavenna direi domande dal lunedì 18 ottobre vediamo Cresce l'attesa per la stagione sciistica e il Consorzio BIM dell'Adda lancia la sesta edizione dell'iniziativa ski pass provinciale a partire dal lunedì prossimo i ragazzi di età compresa fra i 3 e i 16 anni potranno richiedere il rilascio della tessera che consente di utilizzare gratuitamente tutti gli impianti delle stazioni sciistiche di Valtellina e Valchiavenna durante la stagione 2021-2022 un'opportunità possibile grazie ai contributi del BIM della provincia, delle 5 comunità montane e del comune di Sondrio oltre alla collaborazione delle società che gestiscono gli impianti di risalita che rinunciano a gran parte degli introiti per favorire la pratica degli sport sulla neve da parte di bambini e ragazzi veniamo da due stagioni difficili sottolinea il presidente del BIM Alan Vaninetti e l'impegno di enti e operatori risulta ancora più gravoso ma crediamo molto in questa iniziativa e siamo fiduciosi che la prossima stagione si potrà svolgere regolarmente i nostri ragazzi avranno ancora la possibilità di sciare o praticare lo snowboard gratuitamente potendo usufruire delle bellissime piste da sci che abbiamo sul nostro territorio è il nostro contributo alla ripartenza prosegue Vaninetti con la speranza che la stagione sia positiva per la presenza sulle piste dei ragazzi delle loro famiglie e di tanti turisti è quello di cui il nostro territorio ha bisogno dopo due annate da dimenticare mi auguro che anche per questa stagione lo skip pass provinciale ripeta il successo degli anni precedenti invariate le modalità per il rilascio o il rinnovo della tessera da lunedì 18 ottobre fino al 14 novembre tutti gli interessati dovranno presentare la domanda ad uno dei 19 recapiti convenzionati fra consorsi turistici, infopoint, comuni e proloco suddivisi per comune di residenza chi aveva richiesto la tessera per la stagione 2020-2021 compreso chi nel frattempo ha compiuto 17 anni potrà ritirarla senza presentare ulteriore documentazione al rilascio del nuovo skip pass verrà richiesto il pagamento di 30 euro 50 per le richieste pervenute nei mesi successivi alla scadenza oltre ad altri 5 per il supporto keycard per sensibilizzare gli utenti riguardo al valore dell'iniziativa viene confermata la penale di 100 euro per abusi nell'utilizzo della tessera gli skip pass che verranno emessi a partire dal 20 novembre saranno validi dal 27 novembre al 1 maggio 2022 l'elenco dei punti convenzionati dove presentare la domanda è disponibile sul sito internet del BIM dove si troverà a breve anche la modulistica per accedere agli impianti di risalita sarà necessario esibire il green pass il consorzio turistico Valchiavenna intensifica gli sforzi sul fronte della promozione è fondamentale la presenza alle fiere di settore dobbiamo accelerare dopo un anno di transizione fra il dramma della pandemia e la lenta ripartenza dice il direttore Filippo Pighetti servizio i prossimi due appuntamenti saranno a Rimini e a Modena a fine mese momenti cruciali in vista della riapertura degli impianti sciistici il consorzio turistico Valchiavenna intensifica gli sforzi sul fronte della promozione dopo un anno di transizione fra il dramma della pandemia e la lenta ripartenza il 2021 si è caratterizzato per la partecipazione a numerose fiere di settore crediamo da sempre nelle fiere quale strumento per raccontare il nostro territorio per consolidare relazioni con Turo Peretoro per crearne di nuove spiega il direttore Filippo Pighetti adesso dobbiamo accelerare, ci saranno nuove richieste da parte dei turisti e noi dovremo essere pronti a soddisfarle quasi che l'emergenza sanitaria abbia creato una frattura tra il prima e il dopo c'è la necessità di ripresentarsi e di riproporsi fondamentale è la presenza a TTG Travel Experience a Rimini e Schipass a Modena la fiera riminese è diventata la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia in tre giorni accoglie operatori provenienti da tutto il mondo il consorzio turistico sarà presente nello stand di Regione Lombardia con molti operatori e parteciperà a diversi incontri in presenza a Modena, a Schipass, al centro dell'attenzione sarà il turismo della neve nell'unico salone in Italia dedicato agli sporti invernali nel frattempo si lavora al 2022 l'attenta selezione degli appuntamenti più adatti e la programmazione sono alla base della strategia del consorzio turistico che viene definita con un anno almeno di anticipo confermando le fiere più importanti e individuandone di nuove è stato così anche in questo 2021 che nella sua prima parte si è caratterizzato per le fiere virtuali una modalità che si è rivelata molto efficace spiega il direttore Pighetti virtualmente o dal vivo la presenza del consorzio turistico attraverso i suoi addetti ha consentito di veicolare la Val Chiavenne la sua offerta turistica ed evidenziare come, grazie al programma Val Chiavenne Assicura il territorio, le strutture e gli operatori siano in grado di garantire la sicurezza dei visitatori a gennaio la borsa locale del turismo lariano nell'ambito del progetto Le vie del Viandanti di cui il consorzio è partner a marzo l'ITB, la maggiore fiere dell'industria del turismo ad aprile Invaier anche la presenza alla BIT lo scorso mese di maggio e ad Agri Travel e Slow Travel a settembre ha consentito al consorzio turistico di partecipare a incontri online con buyer e tour operatori italiani ed esteri tra le poche fiere e manifestazioni che si sono svolte nella tradizionale modalità in presenza ci sono quelle del settore bike Valtellina e Bike Festival a Morbegno Italian Bike Festival di Rimini con Valtellina Turismo Bene, era l'ultimo servizio vi ricordo l'appuntamento sul web con il nostro sito teleunica.com lì trovate anche la nostra web tv come sempre la nostra presenza su tutti i social Buona serata a tutti